Lungo il corso e in una delle traverse che costeggiano la chiesa del rosario sono comparse una serie di scritte novax, frasi contro la campagna vaccinale, covid, la grande bugia, i vaccini uccidono e altre simili contro i vaccini. Tutto questo accade mentre siamo di fronte alla quarta ondata e arriva l'ok all'inoculazione dopo cinque mesi dalla seconda dose. I gnoti la scorsa notte con della vernice spray rossa hanno imbrattato il centro cittadino, un episodio che fa il paio con l'atto vandalico simile verificatosi nella stessa zona nei giorni scorsi. Ora è caccia all'autore delle scritte novax, parte dell'area presa di mida e infatti fornita di telecamere di videosorveglianza che nelle prossime ore forniranno tutti gli elementi utili per risalire all'identità dell'autore. Le immagini ci sono, sono all'attenzione dell'autorità giudiziaria, sta procedendo un'altra forza dell'ordine perché è di interesse di un'attività che sta svolgendo un'altra forza dell'ordine. Noi abbiamo messo a disposizione la nostra centrale operativa che hanno prelevato le immagini e adesso è in corso di identificazione il soggetto con tutte le indagini di rito. Comandante, per quanto riguarda invece i raid vandalici che ci sono stati ai danni dell'ex ediseo? Anche su quello abbiamo individuato dei minori, alcuni anche fuori dal territorio, che bivaccavano all'interno avendo marinato la scuola e anche quelli sono stati poi eseguiti nel procedimento che si consegue in questi casi.